Anche i russi temono la Brexit. Secondo il Financial Times, la società pubblica nel settore dell'energia Gazprom potrebbe spostare le operazioni della propria controllata londinese al di fuori del Regno Unito nel timore di perdere l'accesso al mercato unico europeo in caso di Brexit dura e di dover far fronte a costi maggiori. Gazprom Marketing and Trading è stata fondata nel 1999 a Londra, che adesso non è più la città del business russo come un decennio fa. Una serie di società si sono ritirate dal suo stock exchange seguendo l'appello del Cremlino in seguito alle sanzioni occidentali contro la Russia.